Ciao ragazzi, benvenuti su Castiub Drums! Oggi è il grande giorno perché oggi comincia il giveaway insieme a DS Drum. Come avete visto qualche video fa ho deciso insieme a DS Drum e a FBT di regalarvi un rullante. Non è un rullante a caso ma è un rullante che avete deciso voi nel video in cui vi facevo vedere le quattro tipologie di rullante DS Drum serie Venom. Avete deciso nei commenti qual è quello che vi è piaciuto di più, quindi oggi vi faccio vedere qual è il rullante che uno di voi si potrà portare a casa. Quindi andrò a fare la classifica che avete fatto voi nei commenti, quindi partirò dal quarto posto fino ad arrivare al primo posto e farvi capire qual è il rullante che vi porterete appunto a casa. Vi spiegherò bene come partecipare al giveaway ma è super semplice come cosa, poi avete scritte qui sotto in descrizione tutte le varie fasi, le varie cose che dovete fare ma appunto sono super super semplici, mando la sigla e poi partiamo. Vi spiego tutto quanto. Allora partiamo dicendo una cosa molto importante che sicuramente per partecipare al giveaway bisogna iscriversi a questo canale e mettere mi piace, quindi andate subito qui sotto, tanto potete continuare a vedere il video mentre vi iscrivetevi al canale, cliccate sul pulsante iscriviti, cliccate anche sul mi piace, volendo cliccate anche sulla campanella per essere sempre aggiornati sui video che escono eccetera 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 ma passiamo subito alla classifica. Allora parto dal quarto posto. Cosa ho fatto? Io sono andato a vedere tutti i commenti del video in cui vi facevo vedere i quattro rullanti Venom di DS Drum e ho fatto il conto in pratica. Ho fatto il conto e ho fatto una classifica in base ai vostri commenti. Quarto posto abbiamo lui, il 13x6. Allora devo dire che a parte il primo posto che ha stravinto, gli altri tre sono stati abbastanza in linea quindi questo e altri due vi sono piaciuti veramente tanto uguale. Nel senso questo ha perso, diciamo arrivato al quarto posto per pochissimi voti, però sicuramente è un ottimo rullante, è un rullante molto particolare, molto 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 particolare, perfetto per il meta, per il punk eccetera. Infatti tutti i metallari e i panchettari, i panchettusi hanno scelto questo rullante qua. Al terzo posto invece è arrivato il 14x5. Questo qua che è il rullante tra virgolette più versatile, volendo, quindi ci si può fare tutto con questo rullante. È arrivato al terzo posto, è piaciuto molto, ma mi è piaciuto il fatto che, proprio per cosa personale, al secondo posto sia arrivata, ammazza tutte queste cordiere di nuovo. Siamo partiti con le cordiere, alè. Tu stai qui, sei stabile? Sì. Al secondo posto, inaspettatamente, perché non me lo aspettavo, è arrivato il 14x8. 14x8 che è il rullante panettone, quindi molti di voi ovviamente scherzosamente mi hanno scritto questo sarebbe il rullante perfetto per Natale, effettivamente è proprio così, è arrivato al secondo posto, vi è piaciuto veramente tanto, ragazzi, questo. Mi aspettavo che non sarebbe arrivato al primo posto, ma è un rullante pazzesco, perché non è versatile questo rullante, ma come vi ho detto è il rullante perfetto da mettere come secondo rullante sulla sinistra, se siete destro, sulla destra siete mancini, ha un po' di sonorità molto particolari che fanno sì che il vostro drumming diventi diverso da quello di tutti gli altri. Ovviamente è 14x8, quindi super rullante profondissimo, ma al primo posto è arrivato l'unico che manca. Qual è l'unico che manca? Vi faccio sentire qualcosa del video vecchio. 14x6,5. Allora, questo è un rullante bello versatile, devo dire, che però strizza un po' l'occhio a tutto il mondo pop rock, quindi versatile, ma anche bello potente, abbastanza bassino comunque già di intonazione e allora questo mi è piaciuto tantissimo anche a me, devo dire. E tra questi quattro rullanti probabilmente per avere un rullante per poter far tutto, ma soprattutto pop rock, avrei scelto anch'io questo 14x6,5. Quindi questo è il rullante che qualcuno di voi si porterà a casa, ma adesso vi voglio spiegare come fare per portarsi a casa questo rullante e per tentare nella fortuna che comunque qualcuno di voi avrà di sicuro. Allora, in pratica le cose da fare sono togliere le cordiere, anche qua ammazza, comunque i video con quattro rullanti sono sempre un problema. Molto meglio. Prima cosa, ve l'ho detta, iscrivetevi a questo canale, mettete mi piace, se volete cliccate anche la campanella, non è obbligatorio, ma volendo potete farlo, non fa mai male. Secondo punto, quello di andare sul mio sito gastubedrums.it, scrollare fino in fondo, quindi dopo la sezione corsi eccetera, c'è una sezione dove c'è scritto rimane aggiornato, dove dovete mettere il nome e la mail. Quindi inserite il vostro nome utente, quello il nome che volete, inserite la mail e cliccate su iscriviti. Vi spiegherò adesso bene il perché mi serve che vi registrate al mio sito, perché non è una cosa a caso, mi serve per capire poi che chi vince non sia magari un profilo fake, non sia qualcosa di sbagliato eccetera, per avere la certezza al 100% di mandare il rullante al vincitore di questo giveaway. Terzo punto che trovate sempre in descrizione, andare sull'instagram, sul profilo instagram di dsdrum e cliccare segui, fine. Questo punto è molto semplice, dovete seguire la pagina instagram di dsdrum. E infine la cosa importantissima è commentare questo video, assolutamente commentate, è il punto più importante di tutti perché l'estrazione si farà proprio sui commenti. Quindi estreremo in base ai commenti e poi chi vincerà andremo a vedere se ha fatto anche tutte le altre cose, quindi l'iscrizione a questo canale, il segui alla pagina instagram di dsdrum e l'iscrizione al sito gastubedrums.it. Ma nel commento che cosa dovete scrivere? Per prima cosa potete fare qualsiasi tipo di commento, ma è importantissimo che mi scriviate il vostro nome utente che avete inserito all'interno del sito gastubedrums.it. Come vi ho detto, quando andate sul sito, in fondo alla pagina dove c'è scritto rimani aggiornato, dovete mettere un nome utente e la password. La password non me la dovete dire, ma mi dovete scrivere il nome utente. In questo modo io col vostro nome utente avrò la vostra mail e saprò perfettamente che siete voi. Questo è importantissimo perché è già capitato di qualcuno che poi mi dica, no ma ero io quello che ho commentato il video su YouTube, no ma ero io, no ma ero io. Quindi si rischia di sbagliare persona perché poi YouTube permette ai canali di avere anche lo stesso nome, quindi non è così semplice. Invece iscrivendovi su gastubedrums.it io andrò sul vostro nome, sul vostro profilo, perché ovviamente il vostro nome me l'avrete scritto nei commenti e così tramite la mail e tutto quanto riusciremo a gestire questo giveaway. Ovviamente se siete già iscritti al canale non dovrete disiscrivervi e poi riscrivervi. Se già seguite la pagina Instagram di DS Drum va bene, siete già a posto. Se già siete iscritti al mio sito gastubedrums.it siete già a posto. Quindi nel caso avete già fatto tutte queste tre cose allora dovrete solo commentare il video. Ricordatevi andando a inserire il nome utente che avete sul mio sito gastubedrums.it. Questo per dirvi tutte le regole che servono per poter partecipare al giveaway. Qui sotto in descrizione avete comunque scritto di nuovo tutto così almeno non dovete andare a vedere il video indietro eccetera eccetera. Avete scritto qui sotto tutto quello che dovete fare, tutti i vari punti e poi l'estrazione finale sarà il 28 dicembre. Quindi è un giveaway di Natale. Ho deciso di portarlo un po' più avanti per darvi più possibilità di vedere questo video, per commentare eccetera. Quindi lo faremo tra Natale e Capodanno. Così almeno siamo tutti in festa, siamo tutti a casa, abbiamo possibilità di stare un po' insieme. Sarà il 28 dicembre alle 21 in live qui sul canale YouTube mio gastubedrums. E quindi come funzionerà? Lì andremo a estrarre il vincitore, estrarremo vincitore, estrarremo probabilmente due riserve in modo tale che se il vincitore non dovesse rispondermi entro una settimana allora la prima riserva diventerà il vincitore, se neanche la prima riserva mi risponde, la seconda riserva diventerà il vincitore eccetera. Ma staremo un mezz'oretta, 40 minuti insieme, estrarremo il vincitore, ci facciamo gli auguri di Natale e così almeno regalerò questo rullante a qualcuno. Io non vedo l'ora di fare questa estrazione perché sono gasatissimo. DSDrum e FBT mi hanno dato la possibilità di regalarvi un rullante e io sono felicissimo più che altro perché il rullante l'avete scelto voi. Quindi sono ancora più felice di potervi regalare qualcosa e soprattutto di potervelo regalare ringraziandovi per tutto questo tempo passato insieme per chi si è iscritto magari dall'inizio del canale, per chi si è iscritto alla fine. Comunque per tutti voi che avete creduto in me, mi avete fatto crescere pian pianino pur non capendo tutto quello che dico contando che la mia voce, c'è la merda e non si capì, ma comunque a parte questo grazie ragazzi, grazie veramente. Quindi io ve lo dico di nuovo, sono veramente veramente super felice di potervi fare questo regalo e spero che possiate gradire anche voi questo giveaway. Quindi io vi saluto qua, ci vediamo il 28 dicembre alle 21 in live qui su YouTube e basta. Grazie ancora DSDrum e FBT per avermi permesso di fare questo giveaway e grazie soprattutto a voi. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.